Fatti scartare, non scartarti da solo. Uno dei migliori insegnamenti che mia nonna ha dato a noi nipoti. Mia nonna, nonna Teresa, classe 1916. Grado di istruzione, la quinta elementare. Non è andata alle medie perché altrimenti i ragazzi la guardavano. Grado di curiosità, spaziale. Il suo gruccio è serenata troppo presto perché i computer stavano aprendo una nuova era e io me la stavo perdendo. Qua è il resto del ottantesimo compleanno, 1996, e coincide con il periodo in cui io e il mio compagno Emilio Billy di vita e di lavoro avevamo iniziato la nostra avventura. Un'avventura che è iniziata con una domanda. Secondo te è possibile costruire un super computer con hardware standard? Prima di rispondere, inquadriamo il periodo. Era il 1996, venivano messi sul mercato i primi Pentium, la memoria di un PC era 4 mega, un hard disk 80-100 mega. I computer più evoluti avevano il CD-ROM, l'USB non esisteva. Il sistema operativo stava passando da Windows 3.11 a Windows 95 e internet iniziava a comparire in alcune case con tratti molto costosi. Non esistevano gli smartphone, non esistevano i tablet, non esisteva il Wi-Fi. I siti disponibili, alta vista e poco altro. Google non era ancora nato. Social network e app, fantascienza. Il gettone del telefono, le 200 lire e la scheda telefonica, erano i mezzi di comunicazione per noi ragazzi. Considerate che uno smartphone oggi ha una potenza di calcolo di circa 100 volte quello di un PC di allora. E cosa fai quando ti viene fatta una domanda di questo simile nel 1996? Innanzitutto cerchi di capire che cos'è un super computer, a che cosa serve, come hai fatto e quindi studi. Ma prima di andare avanti capiamo che cos'è un super computer, a che cosa serviva, a cosa serve e perché realizzarne uno con hardware standard. Un super computer non è un computer grosso. È per definizione un computer costruito con la massima potenza tecnologica disponibile al momento della sua realizzazione. È la formula 1 dei computer, senza compromessi, il massimo che si possa avere tecnologicamente parlando. L'inventore del super computer è Samuel Roger Cray. La definizione di super computer è stata data da Gordon Bell. Per chi non lo sa, Gordon Bell è il padre dei sistemi operativi moderni e ancora oggi esiste un premio all'equivalente del Nobel in informatica che si chiama appunto Golden Bell Prize. Allora, il super computer, grazie alla sua potenza di calcolo, è in grado di svolgere in maniera efficiente un grandissimo numero di operazioni per secondo. Flatten point operation per second. Flops. Siamo partiti da mega flops e siamo arrivati oggi a peta flops ed exa flops. Tradotto, siamo passati da milioni di operazioni al secondo a milioni di miliardi di operazioni al secondo. Questa potenza di calcolo però a cosa serve? Serve per fare cose super, nel senso di al di sopra di qualsiasi altra macchina. I super computer giocano un ruolo chiave nella ricerca scientifica, nella modellizzazione dei modelli e di fenomeni complessi come il cambiamento climatico, per le malattie e molto molto altro ancora. Capito a grandi linea cos'è un super computer e a cosa serve, torniamo alla domanda da cui tutto è partito e dopo dieci anni di studi, ricerche, esperimenti e prototipi la risposta è stata sì, è possibile costruire un super computer con un hardware standard. Questo è il risultato della nostra ricerca. Era il 2005, il nostro super computer aveva la potenza di 96 miliardi di operazioni al secondo. Per farvi capire meglio l'importanza della potenza di calcolo, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati e verso dove stiamo andando, guardate queste figure. La prima figura rappresenta la crescita della potenza di calcolo negli anni. Nel 95 vedete che era circa di 10 alla 10, quindi operazioni al secondo. Adesso siamo circa 10 alla 16 operazioni al secondo, vuol dire 10 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Adesso paragoniamo questo al più sofisticato super computer resistente in natura, il nostro cervello. Il nostro cervello ha una potenza di calcolo di 10 a 18 operazioni al secondo con un consumo di circa 20 watt. Siamo efficienti. E voi starete pensando, super computer, potenza di calcolo, ci saranno state grosse aziende che li realizzavano e perché pensare di realizzarne uno con hardware standard e a che serve e poi in quegli anni con quelle tecnologie? Il motivo per noi era ovvio, per dare accesso alla potenza di calcolo anche ai piccoli gruppi ricerca che altrimenti servono stati limitati nel raggiungere risultati. Considerate che un Cray costava circa 18 miliardi di lire, 9 milioni di euro, perché è fatto con pezzi hardware straspecializzati e noi volevamo realizzare la stessa cosa però senza scendere a compromessi, però usando hardware standard, cattineggi tecnologico ma non fatto su misura. Questo avrebbe abbattuto i costi, ma voleva dire studiare, capire quali pezzi usare, come usarli, come metterli insieme, che problemi risolvere e come rendere assolutamente efficienti. Abbiamo iniziato quindi a studiare, a informarci, a leggere tutto il materiale disponibile e a cercare di materiale aggiornati. Emilia scrisse a Daniel Illis, per il padre della Connection Machine, un super computer, che gli mandò copia della sua tesi, cioè gliela spedì per posta, non in formato elettronico, ricordate che si è anno 96. Ma entusiasmo a parte, quando abbiamo iniziato questa avventura pensavamo che prima o poi ci saremmo fermati, anche perché la paura di sbagliare e di non essere all'altezza era comunque una costante. Ma non sapevamo che la curiosità, lo studio, la voglia di capire come funzionano le cose per riuscire ad anticipare sarebbero state così pervasive da spingerci ogni volta e ogni giorno a tirar fuori il meglio di noi. Devo aggiungere che oltre allo studio dell'impegno c'è stata tanta incoscienza. Emilia una volta ha detto certo che noi siamo strani, chiunque prima di buttarsi controlla di avere il paracadute e che questo funzioni. Noi ci siamo buttati e quando ci siamo accorti di aver bisogno del paracadute ce lo siamo costruiti in volo ed è stato vero. In America dicono knowledge is power e questo è terribilmente vero. Noi stiamo continuando a studiare sia per lavoro ma anche e soprattutto per passione personale e soprattutto in questo periodo di enorme cambiamento e rivoluzione questo è fondamentale e non è mai stato così vero. In questi anni l'innovazione e la tecnologia hanno accelerato. Come mostra questo grafico l'uomo è portato a pensare all'innovazione che funziona in maniera lineare. In realtà l'innovazione è esponenziale e oggi il suo impatto è esplosivo come rappresenta la riga rossa, la curva rossa. Soprattutto questo grazie all'avvento dell'intelligenza artificiale e questo è diventato terribilmente evidente. Una cosa importante, l'intelligenza artificiale non è informatica ma è matematica applicata. Ecco perché servono i super computer. Non stiamo programmando un dispositivo che se schiaccia un tasto allora si apre la cartella. Sono reti neurali che apprendono dai dati, dal contesto e non vengono programmate, quindi non sono pilotate dall'uomo. Mai come in questo periodo la discriminante lo studio e la conoscenza. È evidente che in questa rivoluzione non sia accaduta in un attimo. Cia GPT non è nata in sei mesi così dal nulla. Se vi dicessi che almeno dal 2014 ci stavano lavorando? E noi dove siamo arrivati? Ammetto Exaflow di potenza, l'ultimo nostro super computer, alla potenza di calcolo di mezzo cervello in un armadio REC e stiamo continuando a studiare e a far ricerca. Per accendere il nostro primo super computer abbiamo impiegato quasi dieci anni. Per arrivare alla potenza di calcolo di un cervello abbiamo impiegato altri 15 anni e mezzo ci sono stati due ragazzi che guidati dalla passione, dall'entusiasmo, sono cresciuti, maturati e hanno costruito un'azienda, sono consulenti per grandi aziende, vincono premi e sono qui a parlare al TEDx. A voler dire la verità tutto questo è successo, ma noi non ce ne siamo mai accorti. Ce ne siamo accorti dopo. Negli anni ho visto varie versioni di me, da quella della foto impacciata che voleva fare il medico, a quella con il cacciavite in mano che assembla in due ore un cluster o che fa i meeting con le grosse aziende, a quella che ritira premi e soprattutto a quella che si mette in discussione ogni giorno. In tutto questo io ho sempre cercato di essere me stessa per essere libera. Non mi sono mai fatta influenzare da quello che dice la gente, dice a Feynman, insegna. Questo ti porta a tirar fuori il meglio di te, anche se ha un posto. E pensando a momenti in cui mia mamma mi diceva che non condivideva quello che stavo facendo e come lo stavo facendo, aggiungendo tra il compiaciuto e rassegnato con un sorriso, ma sei tu? Credo che in quel sorriso ci sia il mio più grande successo intimo e personale e la più grande spinta nel continuare. Io vi auguro di riuscire a seguire la vostra strada realizzandovi come persone, padroni del vostro tempo e delle vostre decisioni. E fa paura uscire dagli schemi, ma il più grosso atto d'amore che potete fare verso voi stessi e nel rispetto della vita. Perché, come diceva Nonna Teresa, non vi dovete scartare mai.